Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, da domani a Cesano sarà attiva la navetta bus 036L, collegherà il borgo di Cesano con Cesano Scalo, permettendo lo scambio con le linee 024 e 036 che attualmente sono limitate nei loro percorsi a via della stazione di Cesano, altezza via Palatucci. Le altre notizie, venerdì sera al Colosseo si celebrerà la via Crucis, nell'area le chiusure al traffico e le deviazioni bus inizieranno a partire dalle ore 13, dettagli e aggiornamenti sul piano mobilità per la via Crucis al Colosseo venerdì sera sono su romamobilita.it Grazie a tutti.